Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo tutorial ti spiego come overclockare le RAM ovviamente prima di andare a overclockare le nostre RAM sulla scheda madre io dopo tanti mesi sono riuscito poi a prendere altri due banchi e ho portato così la RAM a 32 GB di RAM quindi ovviamente la frequenza è fino a 3200 MHz quindi se per esempio hai due banchi di RAM a 3600 MHz e altri due a 3200 MHz da quello che ho capito rimarranno a 3200 MHz di frequenza quindi noi adesso andremo a overclockare le nostre RAM e io le porterò fino a 3200 MHz quindi chiudo qua, dobbiamo farlo tutto sul BIOS quindi vai a riavviare così il tuo sistema operativo e adesso io riprenderò da telefono ovviamente per entrare nel BIOS quando riavvii il tuo sistema operativo ti uscirà pure il logo della tua scheda madre quindi uno schermo tutto nero il logo della tua scheda madre e sotto usciranno delle scritte per entrare nel BIOS quindi a me mi ha detto di premere il tasto F12 o canch quindi tu premi tutte e due, quindi premi F12 o canch quindi per overclockare così le nostre RAM come puoi vedere questa è la RAM 32768 MB, 32 GB di RAM vai su OC ed eccole qua di RAM questo qua è la frequenza delle RAM noi ci clicchiamo sopra ed eccole qua come puoi vedere qui ci sono, qui possiamo overclockare le nostre RAM per esempio io quando ho comprato i primi due banchi la RAM stava a 2666 quindi da 2666 le ho portate fino a 3200 perché quella è la frequenza quella è se sulla scatola delle RAM oppure dove le hai comprate ti dicono che la frequenza delle RAM è fino a 3600 MHz ma tu hai 366 e tu puoi portarle a 3600 quindi non puoi per esempio se hai delle RAM come le mie 3200 e portarle a 4133 no quindi io le applico a 3200 di RAM Frequency di DR4 3200 MHz e una volta fatto quello che devi fare è premere il tasto F10 sulla tastiera salvi così la configurazione e esci eccolo qua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come overclockare le proprie RAM fino a una sua frequenza sulla scheda madre iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao